Come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Volevo parlare di quello che ormai è un caso acclarato in casa Milan, cioè Tomori. Allora, Tomori, ragazzi, è diventato un panchinaro con la P maiuscola. Pensate che da quando consegna a Firenze il rigore nelle mani di Ebram, togliendo la Pulisic nelle mani del suo amico Ebram, lui, ed era il 6 di ottobre, sono passati due mesi, non ha mai più giocato titolare nel Milan e da quel momento ha giocato appena 11 minuti in campionato. Sto parlando di campionato, perché poi fa due minuti con l'Udinese, non gioca con Napoli, non gioca col Monza, gioca nove minuti col Cagliari, non gioca con la Juve, non gioca con l'Empoli. sempre in panchina nelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite successive, da titolarissimo a panchinaro appunto con la P maiuscola. Paga quell'episodio, paga una stagione deludente, degli errori, poca concentrazione? Questo non lo sappiamo, sicuramente magari anche un insieme di cose. Di fatto, però, sorprende molto la gestione da bianco-nero in questo caso, nel senso che da giocare sempre, non giocare mai, ci sono anche le vie di mezzo. Oggi la coppia di titolare è Ciao Gabbia, e mi sembra abbastanza evidente. Nell'ultima gara poi è entrato anche Pavlovich e non Tomori appunto. Che cosa è successo? Secondo me si è rotto qualcosa con Fonseca o con i Milani in generale, tant'è che pensando al futuro, secondo me, ecco le strade di Tomori e il Milan probabilmente si separeranno se non a gennaio, la prossima estate. Credo che sia molto probabile vedere una separazione. A me dispiace, nel senso che Tomori hanno scudetto, è un top. Poi però Cala, questo non sta facendo male. Un po' come tutti, tranne che Gabbia. Caso curioso però, dal giocare sempre a non giocare mai. Perché prima aveva giocato sempre senza essere mai sostituito in campionato. Sempre, tutte le partite, a tutti i minuti. Dittemi che ne pensate, che idee vi siete fatti. Commentate qui sotto numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Grazie, un saluto. Grazie.